Consigliani, scusate, fate finire la risposta del sede. Un consiglio comunale sospeso prima del tempo perché la minoranza dopo le interrogazioni sulla ennesima inchiesta riguardo in particolar modo la nomina del vertice di multiservizi ha abbandonato l'aula. Non ci sono le condizioni di serenità, di credibilità di questa amministrazione per poter svolgere la propria attività. Quindi noi ora siamo costretti a lasciare l'aula. È il primo consiglio ad Arezzo dopo la notizia della seconda inchiesta Coingas dello scorso luglio che ha investito alcuni giorni fa esponenti della maggioranza che governa la città. Luca Amendola, Lorenzo Roggi, presidente di due partecipate, Roberto Bardelli, consigliere. Si indaga per corruzione in merito alla nomina di Amendola al vertice della partecipata multiservizi. Tighinelli risulta estraneo ma la sua voce compare nelle registrazioni mentre Bardelli, presente anche Roggi, si lamenta del mancato rispetto di un patto che ci sarebbe stato tra lui e Amendola. In cambio della nomina avrebbe avuto rassicurazioni di un aiuto economico. Un po' di chiacchiere campate in aria, fumose, illusorie, inconsistenti. Insomma, pie illusioni di una persona in difficoltà. È vero, gli gli ho giudienza. Lo stetti ad ascoltare, cercai di capire. Ben poco mi è stato possibile capire per la verità. E se questa è la mia colpa, me ne faccio carico. Oggi tocca a sottoscritto essere chiamato a rispondere in questa sede non di fatti ma di chiacchiere. Ma domani potreste essere voi vittime di attacchi dissennati totalmente disancorati da un qualsiasi fatto da voi compiuto. E attenzione che non solo la liceità ma anche l'eticità della condotta di un politico come di qualunque persona non va misurata sulle parole ma sui fatti. Non che mero può essere valutata su chiacchiere in libertà, fraudulentemente cattate, volte unicamente a rincorare una persona in difficoltà. State barbaramente strumentalizzando stralci di registrazioni nascoste come un unico tema di campagna elettorale ormai iniziata. Sulla nomina di Amendola poi Ghinelli per più volte precisa che era stata una richiesta dei vertici di Forza Italia. La nomina di Luca Amendola come presidente di Multiservizi è avvenuta non certo su indicazione di Bardelli ma nella logica di una composizione armonica di tutte le componenti della maggioranza su proposta di uno dei partiti che ha concorso alla mia elezione a sindaco, in questo caso la Forza Italia e quindi dai suoi vertici. Per l'inchiesta su Coingas Ghinelli ha ricevuto notifica di proseguimento delle indagini e la minoranza oggi ha chiesto le sue dimissioni. Dalle registrazioni di colloqui riservate, rilevate e scusate nel computer di uno degli indagati, in merito alla nomina del presidente della società Multiservizi, emerge, al di là del sospetto reato di corruzione che dovrà essere accertato dalla magistratura, un quadro di bassa politica, una cornice di squallore nel gestire la cosa pubblica che coinvolge massimi esponenti dell'amministrazione cittadina e rappresentanti delle società partecipate con nomine fatte per fare un favore a qualcuno alla luce di queste vicende che evidenziano quantomeno delle sue pesanti responsabilità politiche che rassegni le proprie dimissioni dalla carica di sindaco per consentire il ripristino di un quadro di trasparenza, di correttezza amministrativa e di fiducia soprattutto da parte dei cittadini e delle cittadine di Arezzo nei confronti della politica e della cosa pubblica. Sindaco si diventa! Abbiamo lasciato l'aula a fronte della risposta del sindaco, direi della non risposta del sindaco alla necessità politica che gli avevamo posto e di togliere i dubbi agli aretini rispetto alla trasparenza dell'amministrazione e la capacità di gestire i soldi pubblici nei mesi rimanenti di questa amministrazione. Lui ha fatto una risposta personale di nessun significato politico, credo che non ci siano le condizioni di poter partecipare alla gestione o comunque all'amministrazione della città se non ci sono altri passaggi da parte del sindaco. Mi aspetto che le forze politiche che sorreggono il sindaco, se lo sorreggono ancora, dovranno anche dire qualcosa. È immerso oggi che il sindaco, come noi dicevamo già un po' di tempo, non è un sindaco civico, ma ha preso tutta una serie di scelte come le nomine per i presidenti dei servizi sentendo Forza Italia, la Lega e i Fratelli d'Italia. Quindi anche questo castello che aveva costruito è caduto. Piano piano, insomma, stanno venendo fuori delle cose e credo che dobbiamo aspettare ora il passaggio. Noi non vorremmo, lo dico su livello proprio anche personale, non vorrei più riparlare di queste questioni avvicinandosi in particolare alle elezioni. Dovremmo parlare dei nostri progetti per l'Arezzo degli anni 20, ma purtroppo questa questione della legalità va tolta dal tavolo del confronto politico. Per toglierla deve togliere il sindaco. Il primo atto che doveva fare era quello di chiedere le dimissioni di Amendola e di Roggi. Sono due persone che ha messo lui, oggi abbiamo scoperto che le ha messe su pressioni dei partiti politici, comunque le ha messe lui e quindi l'atto politico era quello delle dimissioni. Non sono arrivate e spero che anche le altre forze politiche che sostengono la maggioranza prendano atto di questo e anche loro intercedono nel confronto del sindaco per far dimettere queste persone. La posizione di Forza Italia, perlomeno quella espressa da due onorevoli, mi sembra piuttosto chiara. Della serie sindaco sapevi di queste cose, non sapevi bene questo accordo, ma comunque dovevi avere un comportamento diverso da quello che ha avuto. Mi sembra una bella sfiducia al sindaco, quindi mi aspetto atti conseguenziali. Io chiedo le dimissioni, chiediamo le dimissioni del sindaco. Prima di tutto con le dimissioni del sindaco decade la giunta e decadono anche altre nomine. Quindi chiediamo le dimissioni del sindaco anche se si vota fra tre mesi, perché è un atto istituzionale e non è solo politico. Questa città non può essere rappresentata, una città operosa, una città di gente per bene, non può essere rappresentata dal sindaco Chinelli. Prima il sindaco Chinelli deve, e mi auguro che lo faccia, risolvere tutte le sue questioni, e dopodiché potrà, dal mio punto di vista, potersi anche ricandidare. Ma finché non ha chiarito il suo ruolo in questa vicenda, ruolo politico, attenzione, non solo giudiziario, per quanto mi riguarda il sindaco deve rassegnare le dimissioni per il bene della città di Arezzo. Dispiace veramente, purtroppo la cronaca ai giornalisti, alcuni di voi c'erano anche 15 anni fa, fare questo lavoro, si ripete tutte le volte che il centro-destra prende in mano questa città, si ripetono, beh, giudiziari, tutte le volte è andato di fatto. E quindi dispiace, come diceva anche Ralli, dover affrontare una campagna elettorale, come fu fatto qualche anno fa, appunto, con un centro-destra indagato e con magagne di mala politica, perché poi tutto ciò squalifica la politica, squalifica chi nei territori si impegna per la cosa pubblica in maniera disinteressata e per il bene, in questo caso, della città di Arezzo.